E con il nostro rispettoso silenzio e preghiera, ecco, ringraziamo. Facciamo qualche istante di silenzio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e sledi ad essi la luce perfetta, riposo in pace. Amen. Grazie.